Come è regista, bravo! Sì, bravo! La rosa è scurvista! Aspetterei di noi! Signor Carola! E' benissimo! Bottone per la gomma e tu gli fai! Ma tu mi ha sentito questa macchina! Allora, per il pesante! Slappiato! Ma mi parla più calma, sennò! Non è che non è che si parte! Nessun fiduci... E' super digitale! Per il suo figlio! Guarda! 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 ahahah ahahah nooo vai no 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 non si vede niente come meglio? aspetta ahahah solo no 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 pace ahja ah что ah come on kann let's walk Grazie. 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 No! 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 Guarda, come è che è scappata? Sai come si può fare? Mai l'hai fatto o no? No, l'ho filmato. Beh, filmato spero. Non funziona? No, non vorrei... Su internet! Soddisfatto? Sì! Sì! Ma che freddo! Ma ma che freddo! Ma ma che freddo! Sì! 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 Sì!